A volte serve tempo per accettare il fatto che non ci siano sopravvissuti. Non è possibile. Le mie sentite condoglianze per suo figlio. Ho sempre saputo che fosse omosensuale, ma non mi è mai importato. Aspettavano un bambino? La madre surrogata non era sull'aereo. Il bambino è vivo. I ragazzi volevano che lei restasse anonima. Ma noi non possiamo abbandonare questo bambino. Metà sangue di Emanuele? Qualcosa conta? Rita van de Vel. Vivi a Ghosn è una bambina di nove anni. Rita van de Vel. Lo comprende? Nein? Nicht? Vende biciclette. È tutto quello che sai su di lei. Buonasera, sono il padre di Emanuele. Se ne vada subito. No, io sono come lei. Sono una vittima collaterale. Come me? Non credo, no. Non come me. No, no, voglio dire... Dovevo ricevere la metà in contanti nel secondo trimestre. E il resto a parto è avvenuto. Invece mi ritrovo con questo e non posso sbarazzarmene. Un bel regalo. C'è il signore dell'altro giorno. Non ci credo, come glielo devo dire? Volevo solo sapere come sta il bebè. Sto prendendo il posto di mio figlio. Non era pesante come lei. Vuole sentire il cuore. La farà crescere dei suoi genitori. La darò in adozione, non ho scelta. Non possiamo abbandonare questa bambina. Ha dei genitori. Beh no, in realtà non li ha. Attraverso questa bambina troveremo un legame con i nostri figli. Mi ricordo le notti con una bambina piccola. L'avrei buttata dalla finestra. Bisogna andare avanti, papà. È la mia piccola. Non mi arrenderò. Le cose stanno così. La mia piccola è la mia piccola.